Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, un terzo di tumori e patologie coronariche potrebbero essere scongiurate esclusivamente con una corretta alimentazione. Se ne è parlato a Palazzo Lascaris nel convegno, la prevenzione ti fa scoprire il gusto della vita, stile di vita a confronto, che si è tenuto in occasione della giornata della salute della donna, su iniziativa degli stati generali dello sport. Professore, la prevenzione cardiologica in chiave femminile. Ma dunque, intanto premettiamo che la donna purtroppo ha una mortalità per eventi cardiovascolari che è vicino al 40%, il 38,8% dati del 2012 dell'Istat, mentre l'uomo torna al 32-33%, quindi deve avere un effetto preventivo molto più importante e ancora più pesante. La donna ha una maggiore sensibilità, conosce di più la propria storia familiare, la donna ha un'idea più precisa del rischio rispetto all'uomo. Questo l'abbiamo analizzato in quei 10.000 e circa 300 individui che abbiamo intervistato. Il fattore di rischio sono quegli stili di vita che cascono dentro la famiglia e quando noi parliamo di prevenzione, la prevenzione è individuale, è una cosa che dovrebbe avere uno spessore sociale, però è dell'individuo, è l'individuo che deve correggere il proprio stile di vita. Quindi il ruolo della donna è fondamentale e ha una consapevolezza, secondo me, molto interessante nel conoscere questi problemi e poi nel tradurli nell'applicazione pratica, voi su se stessa, voi sulla famiglia. Dottore, c'è una differenza tra i rischi alimentari e tra i generi? Sì, sicuramente. Oggi sta proprio emergendo la branca della medicina di genere che ci aiuta a evidenziare quello che è anche la difficoltà e la differenza nell'accesso alla salute, appunto, a seconda del genere di appartenenza. La donna, avendo una vita fisiologicamente scandita da eventi naturali che la differenziano rispetto alla vita dell'uomo, la nascita e la parte comune, poi comincia un percorso che differenzia, ad esempio, nelle modalità di sviluppo. Tutto il percorso nascita e anche la tematica della menopausa caratterizza profondamente la donna, soprattutto. Ogni passaggio è un momento in cui ci può essere un maggior rischio di malnutrizione e quindi c'è oggi molta attenzione sul fornire, senza patologizzare quella che è la fisiologia, ma fornire dei supporti specifici improntati ai principi della medicina di genere per rendere il più omogeneo possibile l'accesso di salute indipendentemente dal genere. Dottore, l'impatto dell'attività motoria, vi è differenza tra i generi? Direi che dipende un pochettino dall'età che prendiamo in considerazione. Anche se nel tempo c'è sempre stata una prevalenza del sesso maschile, sia per la pratica sportiva in generale, sia per la pratica sportiva agonistica. Con il passare del tempo le differenze stanno progressivamente riducendosi, soprattutto nei giovani rimane ancora evidente, siamo nell'ordine del 10-20% di differenza nell'età successive, nell'età adulta.